Salve a tutti e benvenuti nel rifugio. Anche questa settimana guarderemo il topolino in versione digitale perché ormai non mi sta arrivando più puntuale, non me ne vogliate, e oggi parleremo del numero 3573 con questa bellissima cover disegnata da Francesco Dippolito e colorata da Mario Perrotta. Dippolito che non era tanto presente ultimamente con le cover però fortunatamente è tornato molto più in gamba più che mai. Vediamo anche il logo 30esimo anniversario di Panini Comics e vediamo che la copertina ritrae Zio Paperone e Rockarduck diciamo facendoci anticipare un po' quale sarà la trama della prima storia dell'alpo. Comunque molto molto bella. Poi vediamo il carattere a Paperopoli, l'intelligenza artificiale in grado di svolgere qualsiasi compito senza fare pisolini. È vero, è vero. Paperino dice che un'intelligenza artificiale che compie qualsiasi, diciamo esegue qualsiasi ordine senza riposarsi non è così intelligente. Poi andiamo all'editoriale di Alex Bertani, il direttore che introduce la storia dedicata a Rockarduck e Zio Paperone con il ritorno appunto di Sergio Badino ai testi e Stefano Intini ai disegni. E poi abbiamo la seconda parte di Pippo Holmes. Ci annuncia anche che settimana prossima ritornerà Area 15 con una storia in un contesto avventuroso, la corona di Tirnan. E poi abbiamo anche una nuova storia scritta da Giovanni De Feo e Alessandro Pastrovicchio in tre parti, però le prime due le vedremo settimana prossima. Che appunto non vediamo l'ora di leggere. Vediamo l'anticipazione, appunto vediamo lo sketch cover di Dippolito e iniziamo subito con la prima storia dell'albo, ovvero Zio Paperone, Rockarduck e il Bombetta Business. Di Sergio Badino appunto ai testi, Stefano Intini ai disegni, con le chine di Stefano Intini e Roberta Zanotta ai colori di Putra Shabin Bin Abshalil. La storia, ecco, già dal titolo io avrei invertito i nomi dei protagonisti, avrei inserito per primo Rockarduck, visto che è più o meno lui il protagonista della storia, più che Zio Paperone, anche se alla fine vedremo che la storia finirà più o meno come sempre. Ovviamente ci sarà la solita sfida tra Rockarduck e Zio Paperone, in questo caso Rockarduck, grazie anche a un consiglio di Lasky, memore di tutte le sconfitte, gli viene in mente di creare un bistro dedicato alle bombette o con lo slogan che chi è abituato a perdere, cioè tutti possono perdere e quindi possono andare a risolevarsi il morale in questo bistro dove troveranno dolci e salati, insomma, varie pietanze a forma di bombetta. Un'idea che all'inizio sul classerà lo Zio Paperone, vedremo Rockarduck che andrà in vetta alle classifiche per quanto riguarda tutta questa catena di ristoranti, e poi però vedremo come Zio Paperone riuscirà a ribaltare la situazione. Questa storia, ragazzi, mi è piaciuta tantissimo da citare tanto i testi di Badino con, diciamo, un lessico davvero molto forbito che si rifà alle storie ciminiane o anche quelle di Guido Martino, davvero, non c'è vignetta senza una frase studiata ad hoc, le frasi sono tutte davvero elaborate, per questo fatto mi è piaciuta davvero tanto questa storia, però diciamo che non mi è piaciuto il pretesto che ha utilizzato Zio Paperone, ecco, le tecniche che ha utilizzato Zio Paperone per sopraffare Rockarduck, ecco, non voglio spoilerare troppo, però è già la seconda volta che in una storia di sfida tra Rockarduck e Zio Paperone vediamo lo Zione non vincere grazie, questo è un mio punto di vista, è meglio specificare, non vincere grazie alla sua supremazia, ma elevando, ecco, oppure facendo dei tiri mancini all'avversario. Queste tecniche per sopraffare Rockarduck le avrei viste di più, più consone proprio a personaggio di Rockarduck nei confronti di Zio Paperone, invece in questo caso ho notato come sia più lo Zione che tenda a utilizzare queste tecniche, diciamo, poco raffinate, forse addirittura anche poco onesta nei confronti di Rockarduck, sia per farli perdere credibilità e anche addirittura per soffiarli tutti i ristoranti che aveva già costruito il suo avversario, addirittura utilizzando delle dette con nomi, diciamo, di facciata, ecco, non propriamente consone come cose. Comunque, per il resto della storia mi è piaciuta davvero tantissimo, tantissimo, tantissimo. Abbiamo poi una curiosità sulle stravaganze architettoniche, con questo articolo di Francesca Grati, molto molto interessante, e poi andiamo con la seconda storia di questo topolino, ovvero Pippo Holmes in una salsa in rosso, episodio 2 di 2, storia di Bruno Enna, disegni e chine di Paolo Mottura, con i colori di Emanuele Verzi. Prosegue il caso che abbiamo visto iniziare nella precedente puntata, appunto sul topolino scorso, e anche qui ragazzi, senza soffermarmi troppo sulla trama, voglio ribadire la cosa che mi ha colpito in maniera negativa anche settimana scorsa, ovvero è una storia troppo prolissa, troppi, troppi testi. È vero che una storia dedicata a Pippo Holmes, che è scimmiotta, a Sherlock Holmes, e ci fa capire anche a fine storia che ce ne saranno altre di storia. Che dire, non mi è dispiaciuta, anzi mi è piaciuta davvero molto, però a differenza della prima storia di Sergio Badino, che nonostante avesse un linguaggio molto forbito, comunque la prima storia rimane più da topolino, mi viene da dire, mentre questa qui è un po' più pesantuccia da leggere. Comunque sia, è davvero molto molto carina, i disegni di palomatura, che ve lo dico a fare, sono qualcosa di spettacolare. Ecco, un appunto sulla parte grafica riguarda questo flashback che racconta un personaggio, possiamo vedere, con le didascalie scritte in questo corsivo, che ho fatto un po' fatica a leggere, solo per quello, ma per il resto, davvero dei disegni che sembrano quasi alla Tim Burton, ecco, vorrei dire. Davvero molto molto spettacolare la rappresentazione grafica, ecco, forse il testo lo snellirei un pochettino. È vero che appunto, ripeto, bisogna parlare alla Sherlock Holmes, però Bruno Enna ci ha dato modo negli anni di leggere delle storie comunque molto particolari e molto complesse, senza essere, ecco, complicate. Io questa storia l'ho vista forse un po' complicata, non solo complessa. Poi proseguiamo con Pianeta Paperino, la prima amaca, di Vito Stabile ai testi, Marco e Stefano Rota ai disegni, con l'incolore di Valentina Mauri. Da notare subito lo stile vintage di Marco e Stefano Rota, mentre la storia possiamo notare come sia comunque moderna, perché Vito Stabile ci parla della numero uno di Paperino, che non è una moneta, ma è la sua prima amaca, prima amaca o amaca, che dir si voglia, che dopo i vari utilizzi purtroppo è molto rovinata, e Paperino, grazie all'ausilio o di Gastone o di Paperoga, riuscirà, ecco, a sistemarla, però vediamo che poi alla fine si farà aiutare, come al solito, da Archimede. Storia breve, ma carina, mi è piaciuta davvero molto. Poi abbiamo Un magico mondo alla fattoria, di Paperino Paperotto, che ritorna di nuovo sulle pagine del topo dopo la prima storia di qualche settimana fa, l'invasione aliena, di Davide Aicardi e i testi, Giulia La Torre e i disegni, con le chine di Matteo De Vincenzi e i colori di Nicole Serra. Anche questa storia, come la precedente, vede, diciamo, il plot principale della storia, con, diciamo, la dicotomia, ecco, potremmo dire, tra realtà e fantasia, e il rapporto tra realtà e fantasia, e come i bimbi, come Paperino Paperotto, grazie alla sua enorme fantasia, riesce a trasformare una semplice, diciamo, situazione, ecco, in un'avventura spericolata e spettacolare. Questa storia anche mi è piaciuta, nonostante la sua brevità, e mi piace molto, appunto, questo confronto tra realtà e fantasia. Poi vediamo che ritorna la rubrica Fumettando, in questo caso, con protagonista Stefano Zanchi, che disegna il suo Gastone, davvero molto, molto bella. Poi abbiamo un'altra rubrica di Marco Dixit, la parola della settimana, e vediamo come ci viene, diciamo, citata, ecco, una frase che dice Rokardak nella prima storia dell'albo, ovvero, si rivolge nei confronti di Zio Paperone, appunto, chiamandolo pleistocenico micragnoso, e qui abbiamo il significato proprio di queste due parole, pleistocenico, ovvero antico, antiquato, e micragnoso, che potrebbe significare sia misero, povero, ma anche avaro. Davvero molto interessante questa piccola rubrica, con anche i sinonimi e i contrari, ci sta alla grande in una rivista che è anche cultura, come è Topolino. Poi abbiamo l'ultima storia dell'albo, la grande mitologia papera, che torna di nuovo sul Topolino, il volo di Archidedalo, di Luca Barbieri e i testi, Gianpaolo Soldati e i disegni, con le chine di Mar Angelilli e i colori di Annalisa Ferrari. Questa storia, ovviamente, si rifà alla mitologia greca, con, in questo caso, Dedalo e Icaro, la leggenda di Dedalo e Icaro, e si rifà anche un po' la precedente storia di Bruno Barbieri, ovvero quella di Paperin Teseo, che è riuscito a sconviggere il Minotauro nel labirinto, labirinto creato, ovviamente, da Dedalo. E in questo caso vedremo come i nostri, il nostro inventore, anzi, i inventori, perché pure il piccolo Icaro Newton, riusciranno, ecco, a librarsi dal labirinto, perché erano stati imbrigionati dal re Tiranno, ovviamente, cuore di Pietra, fame d'oro, perché, appunto, il labirinto e il Minotauro non sono riusciti a proteggere il tesoro. Davvero, questa vignetta, ragazzi, è qualcosa di epocale, anzi, di leggendario, potremmo dire, davvero molto carina, davvero bellissima. I disegni sono tutti molto spettacolari, e anche i colori che hanno questa sfumatura che accomuna, appunto, tutte le storie della mitologia papera. Davvero molto, molto bella come storia. E abbiamo, appunto, un piccolo articolo che pubblicizza anche il secondo volume di Paper Mitologia. Ecco, qui, ragazzi, sul secondo volume ci sarà una storia inedita, ovvero Paperin e Dipo e gli enigmi della Sfinge. Chissà se questa storia uscirà anche su Topolino, a questo punto penso, forse, di no. E quindi potrebbe essere un motivo valido per acquistare questo volume. Poi abbiamo, però io penso di non comprarlo, abbiamo un altro pezzo di rubrica, come settimana scorsa, dedicata ai castelli, con tutti questi castelli, sia del Portogallo che della Germania. Abbiamo, ovviamente, il castello che ha ispirato Walt Disney per creare i castelli di Cenerentola la Bella Addormentata, che si trova in questo paese innominabile della Germania. Comunque è molto, molto famoso questo castello. E' da citare anche nei castelli italiani, ovviamente, Castel del Monte in Puglia, nella mia amata Puglia, oltre a Castel Sant'Angelo, che è famosissima a Roma, e altri vari castelli, come pure il Castello Estenza, Ferrara, il Castello Sforzesco di Milano, e così via. Molto interessante come rubrica. Poi le lettere dei lettori dedicati a Rocardac, in edicola questa settimana, Zeo Paperone, Paper Mitologia, i Grandi Classici Disney, numero 101, ragazzi, e poi abbiamo l'anticipazione del prossimo numero, 3574, con le storie Topolino e Pieppo in Buonanotte, Poppi, gli Allegri Mestieri di Paperino, una questione di qualità, Area 15, la Corona di Tirna, in episodio 1 di 3 e 2 di 3, Paperino e il Riordino Estremo, e poi la One Shot Battista, Maggiordomo Esistenzialista. Vediamo la copertina, nel prossimo numero, che sembra disegnata da Mastantuono, forse, vediamo questa, sembra tipo come se fosse un quadro, con il cassettino, con tutti i colori a tempera, sarà forse dedicata alla storia Topolino e Pieppo in Buonanotte, Poppi, forse. Vediamo poi la One Shot finale di Battista, che è il tempismo perfetto per affrontare anche i Bassotti. Ragazzi, che dire di questo Topolino 3573, mi è piaciuto, mi è piaciuto molto, gli voglio dare un bel 8 come voto, e se devo fare la mia solita classifica, qui abbiamo 1, 2, 3, 4, 5 storie, e metterei al quinto posto, Invasione Aliena di un Magico Mondo alla Fattoria, non perché sia brutta, ma comunque perché le altre mi sono piaciute di più, al quarto posto, Pianeta Paperino, la prima amaca, al terzo posto, La Grande Mitologia Papera, e il Volo di Archidedalo, al secondo posto, Pippo Holmes, in una salsa in rosso, e al primo posto, Zio Paperone, Rockerdak, e il Bombetta Business. Ragazzi, fatemi sapere, cosa ne pensate voi di questo Topolino, quali sono le storie che vi sono piaciute di più, a differenza mia, o se concordate con me, io con questo vi saluto, e ci vediamo al prossimo video, sperando che Topolino, mi inizi di nuovo ad arrivare puntuale. Ciao a tutti, e alla prossima.